A tutti una buonasera amici telespettatori di Canale 3 Toscana e bentrovati a questa nuova edizione di C3T News, tantissime notizie di questa sera partendo ovviamente dalla Pinacoteca che già da alcune settimane aveva annunciato l'acquisizione di un nuovo dipinto e questa sera c'è stata l'ufficialità del dipinto che arriverà presto da parte di Domenico Beccafumi che raffigurerà la Madonna col bambino e San Giovannino passando poi per la CGL che ha intitolato i possibili effetti delle reti scolastiche in provincia passando poi agli open day dell'università aperti quest'oggi, tantissime le iscrizioni e ovviamente tantissima fiducia da parte di Unisi ma partiamo ovviamente con l'arte, una notizia che ha creato tanto scalpore, tanto successo dopo 55 anni il corpo dei carabinieri ha ritrovato e riportato a Siena l'opera della Madonna con Bambino di Lippo d'Andrea ancora da definire il luogo dove posizionare il pezzo d'arte ma rimane sicuramente la soddisfazione per il ritrovamento ci racconta tutto Marco Crimi Prima il trafugamento compiuto nel settembre 1968 al Museo dell'Opera del Duomo poi dopo un trentennio in cui se ne era perso le tracce la riapparizione nel 1999 in una casa d'aste svizzera e il successivo acquisto di un collezionista italiano infine dopo 55 anni il sequestro avvenuto in una casa d'arte fiorentina ed il ritorno a casa Siena La splendida Madonna col Bambino dipinto del XV secolo attribuito al pittore Lippo d'Andrea è stata restituita oggi dal comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze il Capitanio Claudio Mauti al Rettore dell'Opera della Metropolitana di Siena il professor Giovanni Minucci Durante le indagini condotte dagli uomini dell'arma si era capito che l'opera era stata asportata grazie alla comparazione delle fotografie pubblicate sui cataloghi d'asta con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti dei militari del TPC Così dunque si è accertata l'illecita provenienza del dipinto presente nella casa d'arte Come già detto, l'attività investigativa che è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Firenze ha permesso di appurare che il capolavoro, dopo essere stato trafugato nel 1968 per diversi anni era rimasto sconosciuto al mercato riapparendo nel 1999 in una casa d'aste svizzera dove appunto era stato acquistato da un collezionista italiano le indagini inoltre hanno consentito di appurare le stranità ai fatti per i soggetti coinvolti trantandosi di acquisti fatti in buona fede Allora, la gioia è grande perché quando, come dire, torna è come se tornasse un figlio a casa, una sorta di figlio al prodigo anche se lei e il suo bambino non hanno nessuna responsabilità perché sono state proditoriamente rubate nel 1968 non abbiamo ancora deciso un'idea io ce l'avrei però non so se riesco a realizzarla cioè siccome il 2 abbiamo l'esposizione del ripiale di San Galgano e tutti gli argenti volevo vedere se era possibile metterla là ma devo fare naturalmente tutta una serie di valutazioni di natura tecnica che non faccio io, però ecco, gli vorremmo dare certamente un importante rilievo Come si diceva, è stata asportata il 68 poi dal 68 se ne era persa completamente traccia ed è rispuntata, ma poi questo l'abbiamo ricostruito a posteriori nei primi anni del 2000 quando appunto è stata venduta da una nota casa d'asta di Zurigo chiaramente questa attività viene fuori dal nostro controllo quotidiano di tutte le case d'asta, di tutti i settori specializzati, antiquari, mercatini e quant'altro che permettono poi, grazie alla banca dati, di confrontare le opere e risalire appunto a opere che sono state asportate anche in epoca remota Grazie a Marco Crimi, passiamo adesso a una nuova notizia ovviamente sempre riguardante l'arte è stata presentata questa mattina l'acquisizione del dipinto di Domenico Beccafumi raffigurante la Madonna con Bambino e San Giovannino già da tante settimane la Pinacoteca Nazionale aveva annunciato l'arrivo sentiamo allora la storia nel servizio di Aldotani un'opera giovanile, olio su tela, 72x58 in ottimo stato di conservazione che arricchisce il patrimonio artistico della Pinacoteca di Siena dal 25 febbraio sarà visibile nel museo la Madonna con Bambino e San Giovannino capolavoro di gioventù del Beccafumi e per dare una possibilità speciale alla cittadinanza sarà possibile accedere al museo per la sola giornata di sabato al costo di 2 euro l'opera di Beccafumi è stata comprata dal suo ex proprietario oggi scomparso il professor Giorgio Giusti nel 1974 come dipinto di scuola senese del 500 la sua famiglia costituita da sei eredi ne ha poi proposto l'acquista allo Stato che ha accettato investendo 500.000 euro nell'opera spiegano dalla Pinacoteca che presenta uno stato di conservazione ottimo si riscontrano tutte le caratteristiche che segnano il giovane Beccafumi quali le sue esperienze maturate tra Siena e Firenze prima del 1510 ed è per questo estremamente rappresentativa degli esordi della carriera del grande artista senese che si rivela già informato sui risultati più rilevanti della cosiddetta maniera moderna Domenico Beccafumi ha detto il direttore Axel Emery è uno degli artisti identitari della Pinacoteca nazionale che è il museo di riferimento per l'opera del pittore unico luogo dove si può seguire tutto l'arco della sua produzione da dipinti ai cartoni mancano solo gli affreschi in questa rassegna Si tratta di un capolavoro di un grande artista senese di una delle sue prime opere e di un capolavoro che già permette di capire il suo estro la sua originalità il senso del colore veramente un'opera forte un capolavoro diciamo Passiamo adesso alla CGL che questa mattina ha intitolato i possibili effetti del dimensionamento della rete scolastica nella nostra provincia l'approfondimento nel servizio di Emanuele Giorgi La misura del dimensionamento della rete scolastica andrà a peggiorare il sistema di istruzione pressoché in tutti i suoi aspetti finendo per creare un modello di insegnamento a strati basato sui redditi dei cittadini Questo è quello che sostiene la CGL di Siena che questa mattina ha presentato alla stampa i risultati di uno studio condotto sul territorio La complessità demografica del territorio senese sostengono gli uomini della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL rende particolarmente delicato intervenire sul sistema scolastico e comporta una maggiore attenzione Inoltre, aggiungono non possiamo ignorare tutti gli effetti che la riforma porterebbe ai lavoratori del mondo scolastico Ecco le parole di Anna Cassanelli segretario generale FLC CGL Siena Abbiamo visto che il dimensionamento della rete scolastica è un tema molto attuale perché appunto è stato introdotto in legge di bilancio nel 2022 quindi appena l'anno scorso qualche mese fa abbiamo voluto fare uno studio sui possibili effetti che questa operazione questa misura potrebbe avere sul nostro territorio partendo da un'analisi del livello di complessità della nostra provincia che si rivela essere la seconda più estesa della regione toscana e la penultima in termini di densità della popolazione scolastica il dimensionamento della rete scolastica porterà inevitabilmente a una riduzione del personale sia ATA che del personale docente se manca il personale ci saranno dei plessi che saranno a rischio chiusura questi plessi non potranno che essere quelli in cui c'è appunto una densità di popolazione anche scolastica più bassa e quindi i plessi che si collocano soprattutto nella Val di Chiana Senese e nella Miata Val d'Orcia e come istituti invece in particolare quelli più a rischio sono il comprensivo Tozzi di Chianciano Terme l'istituto Artusi sempre di Chianciano e l'istituto Folgore di San Gimignano credo che questo sia il momento di fare gruppo abbiamo bisogno di mettere insieme un tavolo per discutere insieme su veramente dei progetti contrastare questo processo di desertificazione demografica già in atto nei comuni più piccoli della nostra provincia questo processo che porterà senz'altro a un aumento delle classi pollaio e anche a un aumento del tasso di abbandono scolastico nelle scuole superiori grazie al nostro Emanuele Giorgi passiamo adesso all'università quest'oggi sono stati aperti gli open day per gli studenti del liceo che dovranno scegliere la strada che desiderà il proprio futuro tantissima soddisfazione tantissimi ragazzi già da questa mattina al presidio di economia in San Francesco e più di 2000 iscrizioni senza considerare gli studenti online andiamo a sentire il servizio è tempo di open day all'università di Siena giovedì 23 febbraio è il giorno dedicato ai ragazzi del liceo che devono orientarsi per fare la scelta che desiderà il proprio futuro numerosissimi gli accessi questa mattina al presidio di economia in San Francesco come già dichiarato dalla prolettrice Donata Medaglini ma direi molto bene è una grande soddisfazione una grande emozione vedere tanti ragazzi ragazze in presenza che partecipano al nostro open day si parla di più di 2000 giovani che si sono iscritti e ancora più che si collegheranno anche online il numero di iscrizioni è destinato a salire ma per adesso come detto dalla prorettrice c'è molto entusiasmo e molta fiducia grande varietà di scelta tra gli studenti tante iscrizioni per medicina e giurisprudenza ma tra le strade più ambite non manca quella delle biotecnologie una delle facoltà in crescita negli ultimi anni a livello di iscrizioni ovviamente parliamo molti studenti sono qui al polo di San Mignato per corsi di medicina di biotecnologie questa mattina abbiamo visto anche l'aula piena al polo di San Francesco per studi più economici quindi tante sono le opportunità ogni studente deve cogliere quella che risponde alle sue aspirazioni e questa era l'ultima news del nostro Tg prima di chiudere vorrei andare a leggere una nota perché sono state revocate le onoreficenze di commendatore e grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana a Ferdinando Minucci lo ha stabilito un decreto del Presidente della Repubblica emanato lo scorso 13 gennaio 2023 e pubblicato in gazzetta ufficiale sulla vicenda l'ex patron della menzana ha scelto la via del no comment con questa è veramente tutto e siamo giunti in chiusura della nostra edizione di C3T News ricordo ovviamente l'appuntamento per domani sempre alle ore 7.30 e rimanete con noi per il post Tg questa sera la nostra Virginia avrà in studio Riccardo Caliani il responsabile della menzana Basketball Academy e poi rimanete con noi alle 21 per l'approfondimento di Studio Robur Zoom con Giacomo Lucchini e i suoi ospiti ovviamente tutti i tremi riguardanti il mondo bianconero e poi arrivare a domani con l'appuntamento insieme a Franco Masoni Gaia Pomponi e Ilaria Vallone per pausa pranzo per questa sera è veramente tutto e l'appuntamento rimane a domani a tutti una buona serata con l'appuntamento e i suoi ospiti 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 e i suoi ospiti